9 chili di marijuana e 8 di asci, in totale 17 chilogrammi di droga che un albanese di 28 anni incensurato e residente a Montesilvano trasportava nella sua autovettura una BMW di grossa cilindrata. L'attività di pedinamento portata avanti dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Chieti ha consentito di fermare il veicolo ieri pomeriggio a Francavilla nella zona nord della città lungo la statale 16. Il giorno di San Valentino forse aveva suggerito al 28enne che i controlli sarebbero stati più blandi. Invece i militari lo seguivano da giorni insospettiti dal tenore di vita troppo alto per un ragazzo senza lavoro, macchina costosa, cene galanti al ristorante tutti i giorni. Così lo hanno fermato e nella perquisizione dell'auto all'interno di un borsone nero trasportato nel cofano hanno trovato la droga divisa in diversi involucri proveniente con ogni probabilità dai Balcani. Stupefacente di alta qualità dicono i carabinieri che comunque affideranno la droga al NAS per gli accertamenti di rito. Il valore di mercato stimato è attorno ai 150 mila euro che sarebbero stati guadagnati nelle piazze dello spaccio dell'area metropolitana. Non è chiaro se il 28enne sia soltanto un corriere o se invece si dedicasse in prima persona allo spaccio. Nella sua abitazione di Montesilvano i carabinieri hanno trovato 600 euro in contanti in banconote da 50 euro. Negli ultimi tempi, riferiscono sempre gli investigatori, aveva frequentazioni con diversi pregiudicati dediti allo spaccio. Dunque la droga potrebbe essere una parte di un traffico più vasto e il giovane ora in carcere a Chieti solo un ingranaggio del sistema. Le indagini infatti proseguiranno. Potrebbe essere o un semplice viaggio come accade spesso oppure far parte effettivamente di un'associazione ben più delineata e ben più organizzata che provvede comunque a importare nel territorio nazionale e in particolare sulla nostra costa ingenti quantitativi di droghe.